Il documentario è nato da un'idea di Giuliano Bugani, che è un operaio metalmeccanico adesso in mobilità e nel 2011 è stato in cassa integrazione perché la sua ditta era fallita e dopo l'accordo del 28 giugno 2011 sull'accordo interconfederale delle fabbriche dove praticamente la CGL assieme a Confindustria e agli altri sindacati aveva firmato questo accordo sul lavoro senza interpellare gli iscritti al sindacato e alla FIOM. Quindi per la prima volta nella storia del sindacato metalmeccanico alcune RSU di fabbrica della FIOM hanno scioperato contro la CGL stessa. Per cui da questi fatti che ormai sono diventati storia nel 2011 a settembre abbiamo cominciato le riprese e le interviste in alcune fabbriche dell'Italia, quali da Piaggio, Mirafiori, la Marcegaglia di Pordenone, proprio per sentire come erano andati i fatti e quali sarebbero state le conseguenze poi per il mondo dei lavoratori metalmeccanici e non, perché sostanzialmente dal 2011 i contratti nazionali praticamente sono stati aboliti perché gli accordi che sono stati fatti mireranno sempre più a una esternalizzazione dei lavoratori e dei loro contratti. Quindi il viaggio che è stato fatto tra i metalmeccanici ha voluto proprio evidenziare questa difficoltà da parte dei lavoratori a essere d'accordo con le scelte fatte dalla CGL. Il documentario è stato interamente autoprodotto, io ho curato la fotografia e il montaggio, Giuliano Bugani ha curato la sceneggiatura, il soggetto e ha coperto le prime spese di viaggio, alcuni compagni della FIOM hanno sostenuto le nostre spese, cioè ci hanno rimborsato le spese di viaggio, per cui è stato un po' più facile sostenere alcuni viaggi. Inoltre gli assalti frontali hanno regalato le loro musiche dell'album Profondo Rosso del 2011 che abbiamo potuto utilizzare liberamente e gratuitamente per il documentario, assieme a due musicisti di Empoli, Gianni Paci e Dario Baldini che anche loro ci hanno regalato le loro musiche, per cui è stato proprio un documentario che è nato da un lato dalla passione per il mondo dei lavoratori e dall'altro per far sapere anche ai lavoratori stessi quello che è accaduto all'interno dei palazzi. Noi avevamo chiesto un contributo alla FIOM centrale per realizzare il documentario dopo gli accordi del 28 giugno 2011, ma c'è stato detto che volendo in molti realizzare dei film e dei documentari sulla FIOM non era possibile ricevere un compenso. Abbiamo chiesto se ci potessero dare dei materiali di repertorio e ci hanno indirizzati a un delegato di mestre che avrebbe dovuto darci queste manifestazioni, firmati di queste manifestazioni degli anni 70-80, ma poi non c'è stato nulla da fare. Per cui ci siamo rimboccati le mani che abbiamo lavorato un anno e alla fine il documentario è stato presentato a novembre con molte difficoltà perché avevamo chiesto una sala a degli organismi a Bologna, però dopo che queste persone ci avevano dato il consenso per la proiezione, avendo visto il film poi ci è stato dato il loro diniego, per cui ci siamo dovuti organizzare, abbiamo chiesto l'aiuto a un'associazione culturale e grazie al loro supporto siamo riusciti a prendere una sala e a fare la proiezione. Alcuni erano già a conoscenza di quello che era successo dopo l'accordo interconfederale, altri purtroppo non ne sapevano nulla, per cui diciamo che hanno apprezzato alcuni positivamente il lavoro perché li metteva di fronte a delle perplessità su quello che sarebbe stato il loro futuro, molti erano già in cassa integrazione, molti incontravano le loro difficoltà quotidiane con figli, con i problemi di tutti i giorni, mentre altri hanno trovato il documentario un po' scomodo dal punto di vista politico perché è un documentario che parla della fiomma ma non va né a favore né contro la fiomma, è stata data la possibilità ad alcune RSU di esprimersi riguardo a tematiche sulla democrazia anche all'interno del sindacato e anche lì è stato un caleidoscopio di opinioni, per cui diciamo che alcuni lavoratori sono stati molto perplessi rispetto a quello che è emerso poi dal film, altri invece sono stati molto contenti perché è stata data la loro voce. Ma molti sentivano di voler essere intervistati perché soprattutto penso a un operaio della piaggio che parla del fatto che già negli anni 90 alcuni accordi che erano stati presi dalla fiomma non giovavano poi alle condizioni dei lavoratori, quindi abbiamo riscontrato molta voglia di far sentire la loro voce. C'è stata fatta richiesta dal fatto quotidiano di una coppia da visionare perché il film sembrava interessare l'editore del fatto quotidiano, è stato visionato ma poi c'è stato detto che non sarebbe fatto più nulla, per cui facciamo delle proiezioni auto-organizzate, se volete vedere il trailer del film potete cercarlo col titolo FIOM, viaggio nella base dei metalmeccanici e chiunque voglia proiettarlo presso la propria sede dell'associazione o comunque proiezioni in paesi o circoli autonomi può contattarci e con un piccolo rimborso spese verremo sicuramente senza problemi. Grazie per la visione!